Ciao a tutti, dal Piero della Francesca. Allora, ci ho messo un po' a fare questo video, però ho voluto prima capire e sinceramente non la vedo bene, non la vedo veramente bene. Parlo del fatto, parlando delle election day, delle elezioni americane. Ho voluto capire chi fosse Joe Biden, chi fosse Kamala Harris, ci stanno tutti quanti propinando la moglie di Joe Biden, che è italo-americana, è di Messina. Ho voluto capire un po' di cose e la cosa che mi preoccupa di più è che abbia vinto Biden. Biden, voglio ricordarvi che è stato il vice di Obama. Il vice di Obama, ragazzi, vi posso garantire che non è poco, cioè nel senso che tra la guerra fondai, Obama è stato uno dei, tra virgolette, peggiori. Nobel per la pace è uno dei peggiori. Neanche Bush ha fatto quello che ha fatto Obama, e vi ho detto tutto. Bush, il figlio, mi pare che fosse il figlio, nel 2001 ha fatto di gran lunga peggio su un certo piano, nel senso che quando tu butti giù due torri come il Twin Towers e sacrifichi 5.000 ai tuoi uomini per poter inventare un nemico da attaccare come era Osama Bin Laden, hai fatto anche peggio. Ma a livello globale, Obama ha aperto molti più conflitti. Ne hanno aperti sette, sette conflitti ha aperto Obama. E questo è anche peggio di Obama. Questo è anche peggio di Obama, molto peggio. A parte il fatto, vabbè, licerie, non voglio dire, però si dice che sia un pedofilo, che sia quello che volete, però queste sono licerie che contano e non contano in politica. Quello che conta sono i fatti. E nei fatti, Biden, con le prime dichiarazioni da presidente, ha fatto capire che combinerà un bordello a livello globale. Ha fatto capire che loro lavoreranno per un nuovo ordine mondiale. Questo è ovviamente prevedibile, era prevedibile, ma è ancora più chiaro guardando chi hanno messo come vicepresidente. Kamala Harris, che nessuno toglie le sue abilità, nessuno vuole, mentre in discussione le sue abilità, né il fatto che sia una donna, ma il fatto che non abbia una vera e propria identità, non è neanche una vera e propria identità, è un misto. Non è americana, non è indiana, non è africana, è un misto di 3-4 culture. Quindi una cultura, una persona sradicata ha le culture e questo è quello che vorranno praticare con il nuovo ordine. Non li ha sradicare le persone dalla propria cultura, dalla propria cultura. E partiranno con il covid. Non lo dico chiaro. Per quanto io continuo a ripetere, il covid c'è, bisogna fare attenzione, mettiamoci la mascherina, facciamo attenzione, disinfettiamoci le mani, laviamoci le mani, manteniamo le distanze. Il covid c'è. Quando dissi in un mio video, nel primo video che feci per il covid, vediamo in quanti si ricordano. Nel primo video che feci per il covid, dissi che il covid era stato creato in laboratorio, che non era una cosa che veniva da un più bistrello. Mi avete tirato addosso tanta di quella merda da farmi incazzare come una iena. Questo era il primo video covid che feci. Soprattutto, vabbè, lasciamo a perdere, però non facciamo nomi. Ora è comprovato che il covid nasce in laboratorio. Ora lo sappiamo tutti, che il covid nasce in laboratorio. Nasce in laboratorio ovviamente per piegare le persone, per sottometterle. E per ridurre la popolazione mondiale. Se prima era un dubbio, ora è una sacrosanta realtà. Dopo le dichiarazioni di Ursula von der Leyen, quando deve ancora diventare presidente della BCE, che disse che i vecchi sono, i pensionati sono di peso. Sono un peso sociale che lei sogna che poi l'eutanasia diventi una cosa legale. Questo è quello che diceva Ursula von der Leyen. Ma tornando a Biden, questo ha dichiarato che lavoreranno per un nuovo ordine mondiale, appunto iniziato dalla covid. Guardate caso, Biden diventa presidente, adesso c'è il vaccino che è quasi pronto. Il vaccino è quasi pronto. Fate quello che volete. Io prefisco fare attenzione e non vaccinarmi contro il covid. Vi dico la mia, ok? Vi dico la mia. Mascherina, attenzione. E lo facciamo sparire questo covid, in qualche modo. Però il vaccino non ne faccio. Comunque, detto questo, Biden è quello che ha dichiarato, nelle prime dichiarazioni del presidente, che la Cina dovrà lavorare per il bene globale e per il nuovo ordine mondiale, no? In poche parole ha dichiarato che vuole sottomettere la Cina. In poche parole, cercatele. Cercatele parole di Biden e mi rendete conto che in poche parole lui vorrebbe provare a schiacciare la Cina. E questo è di gran lunga e pericoloso. Perché se Trump lo accontentava, è vero che ci ha messo due dazi, ma poi alla fine ci ha penalizzato, ma neanche più di tanto come prodotto in Italia. Neanche più di tanto. Ha messo due dazi e Trump andava avanti a dazi ed era finita lì il discorso. Lo accontentavi con un gelato, e dici, guarda, ascolta, va bene, togli i miei dazi e io ti do, che ne so, ti faccio entrare un prodotto in più in Italia. Magari a condizioni più agevolate. Insomma, Trump lo accontentavi con un gelato. Mezzo pirla, ha rischiato un paio di volte la terza guerra mondiale, ma ovviamente non è così scemo da farla scoppiare veramente. E quindi Trump era uno che ha rischiato, adesso con la crisi Covid, ha rischiato veramente di mandare il paese in default. Perché con i denari che ci ha pompato dentro, con i soldi che ci ha pompato dentro, a fine crisi voglio proprio vedere come sarà l'inflazione in America, sarà veramente la batosta. Però comunque Trump non era pericoloso, cioè era pericoloso per il suo popolo, per gli americani. Perché? Perché non aveva capito una cosa veramente importante, che l'America non è un'unione degli stati come lo è l'Europa, l'America è un impero. E questo Biden ha capito, è un impero che deve tendere a espandersi, deve tendere ad espandersi in America come impero. Biden, Trump tendeva a trattenerla. questa è la differenza principalmente fra Biden e Trump. c'è da dire che l'America ha bisogno dei conflitti come l'Italia ha bisogno della pasta al pomodoro, per fare un esempio. Ha bisogno dei conflitti perché? Perché devono, perché hanno un debito troppo alto. Ha bisogno di conflitti perché non ha, fra i dieci paesi che hanno più petrolio, l'America è al decimo posto. A primo posto non ci sono gli Emirati Arabi, c'è il Venezuela, con 266 milioni di barili mi pare, andate a controllare. Un paese che muore di fame. Tra le altre cose. Biden, Biden è pericoloso. Perché? Perché se va a stuzzicare la Cina, viene fuori un bordello. Avete capito? Allora io vi dico, Biden è veramente pericoloso. Trump non era lo scemo di Salvini. Trump, grosso modo, sapeva cosa faceva e ha dimostrato il fatto che nelle elezioni è arrivato quasi a un testa a testa con Biden. Queste elezioni sono durate quanto la risoluzione di Gesù Cristo, ha fatto prima di Gesù Cristo risorgere. Quindi capite che Trump è arrivato a un testa a testa con Biden e vuol dire che se l'è giocata bene, vuol dire che comunque gli americani non hanno apprezzato abbastanza. Capite? E non è detto che Trump non si è presenti alle prossime elezioni. Attenzione. Io sono dell'idea che questo è stato messo lì dalla cricca, Biden, e combinerà dei veri bordelli. Dei veri bordelli. Combinerà dei veri e propri bordelli. Basta guardarli in faccia sta gente qua. Basta guardarli in faccia. Comunque, questo è quello che penso io sulle elezioni americane. Baccio e abbraccio a Pirola Francesca e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! 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 Ciao!